Buongiorno ragazzi, vedete questo video, siamo tutti ragazzi, come direi sono un nuovo video, una nuova top, top 10 animali più belli del mondo se ancora non vi siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciate like a tutti i miei video, commenti, consigliatemi altra sera fare e iniziamo il primo animale più bello è l'osso polare, è un grande mammifero carnivoro appartenente alla famiglia Orsidai credo che si pronunci così, se ogni tanto vedo qui perché sono scritte tutti gli animali e tutte le informazioni è una specie che si trova intorno al polo nord nel malegraciale artico ed è il più grande carnivoro di terraferma sul nostro pianeta insieme all'orso Kodiak il secondo è il gufo delle nevi, un uccello della famiglia degli estrigidi il terzo è il panda gigante, un mammifero appartenente alla famiglia Orsidai, è originario della Cina centrale e vive nelle regioni montuose del Sichuan il quarto è la volpe, un mammifero carnivoro diffuso in America, Europa, Asia e Africa il quinto è la foca bianca, è un carnivoro marino della famiglia dei Fiocidi il sesto è il leopardo delle nevi, è un felide marino di dimensioni abbastanza grandi, originario delle catene montuose dell'Asia centrale il settimo è il pavone, è un uccello appartenente alla famiglia dei Fasfanidi l'ottavo è la tigre bianca, è un mammifero della famiglia dei felini, è il più grande animale preistorico il nono è la mantide orchidee, oppure mantide religiosa è un insetto che si trova nelle foreste tropicali del sud-est asiatico l'ultimo, il decimo, è il leone bianco, è una specie di leone molto rana di colore bianco niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto questa era la top top 10 animali più belli al mondo noi ci vediamo al prossimo video, lasciate like, commenti se ancora vi siete iscritti al canale, iscrivetevi consiglia di mettere se lo deve fare e bella!